Il padre di Asia Nucetelli ha nuova fidanzata più giovane di lei. Alex Nucetelli ha una nuova fidanzata. Il PR romano 45enne, noto anche per essere uno dei migliori amici di Francesco Totti, in questo periodo ha spesso parlato alla stampa di lui e di Noemi Bocchi quasi fosse un suo portavoce non ufficiale. Ha voluto raccontare del suo nuovo amore sui social, dove ha condiviso una foto in cui appare quella giovane studentessa di giurisprudenza 25enne. Il mio primo premio, ha scritto accanto all'immagine che ritrae un passionale bacio tra loro. Qualcuno non ha potuto fare a meno di notare la differenza d'età tra Alex e la sua nuova dolce metà. Ovvero 20 anni, ma anche il fatto che Asia Nucetelli, figlia avuta da Alex insieme ad Antonella Mosetti, sia più grande di lei. L'ex Geffina VIP infatti ha 26 anni, la fidanzata del papà ha invece 25. Oggi però tante coppie hanno grandi differenze d'età, non sembra più essere un problema. E a giudicare dallo scatto condiviso online da Nucetelli, la passione con la studentessa è davvero alle stelle.